Senta Rivera, conosce le canzoni di Celentano? Sì. Anche le ultime? Anche l'ultima, penso che l'ultima sia Sabato Trista. E le piace come canta Celentano? Sì, mi piace parecchio, probabilmente perché è un cantante del mio tempo. Scusi lei, che c'è, dove va, perché, oh bella mora, se non sbaglio lei ha visto l'intervilla con me. Ma come fa lei a non ricordar? Noi eravamo in centomila allo stadio quel dì. Io del lì, lei del mio, Mia, oh bella mora, da una porta all'altra le sorridi e lei disse sì. E poi finita la partita, la vidi uscire e di sfuggita con uno sul tra. Senta, se dovesse comprare un disco, uno solo, comprerebbe un disco di Adriano Celentano? Probabilmente sì, nel caso fosse l'Ego.